Posso chiedere per il cenone di Capodanno, in casa? In casa, in casa. Cosa pensa di preparare? Sono numerosissimi. Sì, infatti, stiamo preparando, ognuno prepara qualcosa e lo porta giustamente, per non caricare chi ci ospita, insomma. No, a casa, sicuramente. Cosa preparerà? Qualche idea? Qualcosa così. A base di carne o di pesce? Forse di pesce. No, ristorante no, in casa. Preferisco evitare i ristoranti durante le feste. Mancano pochi giorni ormai al cenone del 31 dicembre e i pugliesi si preparano a preparare il cenone o in casa o in ristorante, ma dove preferiranno stare e soprattutto cosa metteranno sulle tavole? Vinceranno le tradizioni o le innovazioni? Insomma, siamo qui nel mercato di Sette L'Acquare di Lecce e lo abbiamo chiesto proprio a chi ogni giorno fa la spesa. Il cenone del 31 in casa o in ristorante? In casa, in casa di amici. Lei cosa porterà? Preparerà qualcosa? Ora non lo so. Sì, ma ai parenti. Siamo sempre ai parenti. Lei sarà ospite o preparerà? Certo, certo. Preparerà qualcosa? No, no. Signora, le posso chiedere, per il menù del 31 ha già qualche idea? No, io vado a casa le figlie, si interessano loro, no. Quindi sarà ospite? Sì, sì, sì. Comunque in famiglia? Vengo tre, vado da una parte, vado da una parte e giro, no, non me ne prendo. E queste cose ci pensa mia moglie? Case con i figli. Cosa preparerà? Qualche idea? Qualche coliglio ripieno, a me piace tanto, anche alla famiglia. E poi se c'è un pochettino di pesce per fare fritte, per fare roba di frittura. A casa. Ha già qualche idea su cosa preparerà? Vabbè, niente, niente di che, perché non c'è una cosa importante. Siamo solo due persone. Il 31 si va al ristorante, si va. Chi lo vuole fare in casa, come pesce, cosa dovrebbe comprare, cosa non dovrebbe mancare? Secondo gusti, secondo... non si so dire la verità.